Ma sfido chiunque a indicare un altro Governo e un altro Parlamento che in Europa sia oggi impegnato in un complesso di riforme come quello su cui siamo impegnati in Italia. Quindi noi non siamo i primi della classe, però non accettiamo lezioni e lavoriamo nell'interesse comune. Dell'interesse comune fa parte, a nostro avviso, correggere le politiche economiche dell'Unione, così come fa parte avere un'Unione più presente in termini di sicurezza e difesa.